settima pole per leclerc ottava per la ferrari su 12 gran premi della stagione 2022 quindi il più grande interprete delle qualifiche con una grande capacità nel giro secco nel massimizzare la prestazione della sua f1 75 il tempo è stato veramente straordinario 1 30 e 876 quindi una prestazione tre decimi più veloce rispetto a verstappen e poi abbiamo un sergio perez che di fatto ha mostrato qualche difficoltà in più rispetto al suo compagno di squadra quarta la mercedes di louis emilton lando norris russell alonso abbiamo avuto una qualifica che è stata dominata dal teatro ferrari che per paura di perdere la pole position ha utilizzato science per dargli la scia e quindi è stata ottenuta la ottava prestazione la ottava pole position di ferrari su due fronti si è lavorato in ferrari il primo certamente legato agli aspetti di regolazione della monoposto ieri deliberato il pacchetto di sviluppo ne abbiamo già parlato con il nuovo fondo che è in grado di generare più auto osce buttare fuori più aria ma è già pensato per spa francor champ quando ci saranno i nuovi regolamenti della vettura più alta ma oggi c'è stato un problema di sovrasterzo soprattutto nelle curve medio veloci quindi non si è agito sull'aerodinamica della monoposto sulla quale si riesce a dare più carico sulla posteriore e stabilizzare la monoposto ma il sovrasterzo che abbiamo visto sulle clerk con una vettura che in fase di percorrenza curva e in parte anche di trazione andava in sovrasterzo è stato curato con il differenziale ma soprattutto con le regolazioni di sospensioni è stato appoggiato di più il retrotreno con una regolazione decisamente più morbida che permetteva alla monoposto di rollare leggermente di più appoggiarsi verso l'esterno e quindi stabilire una migliore prestazione del pneumatico sull'asfalto perché ferrari ha lavorato moltissimo sulla sospensione proprio in prospettiva gara con temperature molto alte con un deterioramento atteso veramente severo proprio per le altissime temperature dell'asfalto e quindi bisogna proteggere le coperture da fenomeni di blistering che probabilmente potrebbero vedersi domani soprattutto nella prima fase di gara con tanto carburante a bordo quindi quando il pneumatico è soggetto a maggiori stress in termini di trazione e soprattutto di appoggio laterale abbiamo visto anche il nuovo motore della monoposto di science quindi un propulsore che di fatto lascia parte delle strategie legate alla parte ibrida e turbo che hanno portato a tutta una serie di rotture dei motori turbo ne abbiamo già parlato con le nostre animazioni 3d precedentemente ma adesso vogliamo vedere appunto il nuovo motore che di fatto sappiamo che ormai c'è lo split turbo quindi il turbo è rimasto al posteriore davanti è stato spostato il compressore in mezzo la mg h quindi con questa soluzione ferrari riesce ad ottimizzare le prestazioni del motore ma soprattutto ha impresso nuove strategie legate alla gestione della parte ibrida e quindi i flussi i cicli di carica e scarica relativi alle decelerazioni e alla fase di accelerazione la carica sulla batteria ma soprattutto anche tutta la parte di gestione diretta dell'energia elettrica dall mgu h all mgu k per ottenere un periodo più lungo di 162 cavalli di trazione elettrica bene questo è un panorama importante per cercare di capire le prospettive ferrari nel gambe di francia di domani per cercare soprattutto di ottimizzare le prestazioni di due monoposto che avranno compiti veramente molto diversi leclerc partire davanti e puntare a vincere la sua gara ma soprattutto un science che partirà dal fondo quindi dovrà fare una gara di recupero su un circuito dove ci sono almeno tre tratti dove si può tentare il sorpasso